il contenuto di questa scatola potrebbe cambiare il destino dei creatori di contenuti video perché è un filtro dalla immensa versatilità in realtà è un sistema di filtri prodotto da freewell andiamo a vedere che cosa c'è in questa scatola e poi ti spiego di che cosa si tratta troviamo prima di tutto questa bustina molto bella e con il solito codice qr per entrare in contatto con il produttore all'interno troviamo una card che ci spiega le operazioni fondamentali da fare con questi filtri e immagino un video di istruzioni più dettagliate una garanzia a vita sul prodotto che abbiamo appena acquistato un panno in microfibra per la pulizia marchiato freewell e un piccolo catalogo con la produzione di freewell divisa per categorie infine abbiamo all'interno di questa borsetta i filtri veri e propri la borsetta sembra ben realizzata molto robusta e protettiva e all'interno ci sono i filtri abbiamo questo qua questi altri tutti uniti insieme questa è la borsa che vede a un comparto separato per ogni filtro di che cosa si tratta è un sistema di filtri magnetici con il suo tappo magnetico trasparente molto molto carino anche discretamente pesante in realtà e poi abbiamo due filtri di densità differente che possono essere utilizzati come filtro nd variabile per il video o anche utilizzati singolarmente come polarizzatore in questo caso e polarizzatore più nd 32 in quest'altro caso abbiamo poi la base magnetica nel mio caso con la filattatura da 67 mm in cui possiamo attaccare gli altri filtri ma la cosa interessantissima è questa che posso rimuovere questo filtro e installare quest'altro ed è la grande novità di questo sistema perché questo secondo filtro incorpora il filtro mist nella sostanza con quello che vedi qui sopra abbiamo una serie presso che infinita di possibilità abbiamo il filtro mist che in realtà toglie anche uno stop per via del fatto che ci ha incorporato il polarizzatore del filtro nd variabile abbiamo il tappo magnetico che possiamo applicare direttamente la possibilità di utilizzare un nd variabile da 2 a 5 stop montando questo e da 6 a 9 stop montando quest'altro ma rimuovendo questo quindi rimuovendo il vetro interno abbiamo la possibilità di utilizzare un polarizzatore oppure un polarizzatore con l'end 32 una serie infinita di possibilità che possiamo sostituire davanti al nostro obiettivo nel giro di veramente pochissimi istanti sulla carta sembra un sistema davvero fantastico ma come andrà nella pratica non perderti il video di venerdì con la prova completa sul campo